eccoci qua cari amici appassionati qua di vecchi trattori abbiamo un vecchio porsche sistemato per bene da raduni eccolo qua se ha il modello? si è junior 111 costruiti della 1951 dalla porsche questo qua va bene insomma va benissimo perfettamente funzionante lo usiamo per raduni eccolo qua bellissimo insomma semplice semplicissimo proprio di solito parte al primo colpo questo? si proviamo? beh prova dai così diamo un po di emozione qua dato che siamo nel garage qua ora qua vecchia Joe si prova appassionati qua di vecchi trattori eccolo qua vediamo un po va 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 ottimo è appassionati qua di vecchi trattori eccolo qua va bene va bene è nuovo dai si può dire eccolo qua ragazzi eccolo qua pronto per i raduni va benissimo grazie Renato dai lo vedremo prossimi raduni montagna ok che anno è abbiamo detto nel 1900? 1951-52 era messo in buone condizioni? era in utilizzo non perfetto l'abbiamo restaurato completamente abbiamo comprato i pezzi mancanti alla Porsche che sono ancora tuttora disponibili eccolo qua va bene dai ok grazie spettacolo ragazzi ciao a tutti viva i vecchi trattori qua abbiamo fatto un piccolo report va bene ciao a tutti eccolo qua grazie grazie